Benvenuti nello studio della stampa di Via Lugara e saluto Dario Gallina, il primo ospite della nostra serie A che punto è Torino. Vogliamo raccontare la città e sentire la città in questo momento di crisi economica provocata da una pandemia senza precedenti. Dario Gallina è presidente della Camera di Commercio di Torino da poco più di un anno e prima era presidente dell'Unione Industriale. Conosce la città, conosce il suo ritmo. Presidente Gallina, a che punto è Torino? Che aria si respira in città in questo momento? Purtroppo in questo momento la pandemia ha colpito molto pesantemente la città. Anche se per quanto riguarda il mondo industriale si sta lavorando, le aziende che hanno possibilità di operare quindi stanno cercando di riprendere il ritmo dopo un anno molto difficile. Però tutta la parte della città dove vede la gente, il lavoro col pubblico, tutto quello che è l'attività del centro della città è tutto fermo purtroppo. Il turismo è fermo, tutto il commercio. Quindi tutte le piccole attività purtroppo stanno soffrendo moltissimo. Ma in questo momento secondo lei è più importante la stanchezza per quest'anno di pandemia oppure la speranza che possa finire presto? Sicuramente la cosa più importante è non perdere la speranza. Noi dobbiamo cercare veramente, adesso anche c'è questa aspettativa di ripartire che non sappiamo quando succederà. Abbiamo fatto un'indagine per esempio sulle aziende che nascono, le aziende che muoiono e effettivamente siamo ai minimi storici. C'è un'attesa, c'è stato un anno di come fossimo ibernati. Intanto perdevamo lavoro, abbiamo perso quasi 40.000 posti di lavoro, abbiamo perso fatturato, le aziende si sono indebitate. Quindi è una situazione che dovremmo recuperare e dobbiamo farlo più presto. Quali sono i settori che soffrono di più e quali sono quelli che sono rimasti sopra la linea di galleggiamento? Ci sono ovviamente il settore alimentare, le attività che sono state aperte, l'agroalimentare ha comunque mantenuto un suo livello. Invece tutte le attività che avevano anche il protagonista, il turista, piuttosto che il commercio, la ristorazione, i bar, il piccolo commercio. Anche le partite IVA che non hanno potuto lavorare. Quelle che hanno sofferto meno quando hanno potuto lavorare, abbiamo visto già da luglio quando ci sono stati gli incentivi, tutte le filiere dell'automotive. Hanno avuto dei momenti in cui si hanno potuto riprendere. Però sicuramente c'è stato un momento di calo. Abbiamo perso quasi il 6% della produzione industriale. Quindi oltre ai settori dei servizi che hanno perso, anche il settore industriale ha perso moltissimo. È un anno veramente da dimenticare, però dobbiamo partire al più presto. Vediamo quando lo potremo fare. Sta arrivando il recovery plan con i soldi europei, oltre 200 miliardi per l'Italia. Che cosa vi aspettate che venga fatto per il sistema piemontese e in particolare per il sistema torinese? Quali sono i vostri desideri? Noi abbiamo lavorato in questi anni su grandi progetti. Speriamo veramente che il recovery plan si innesti con delle politiche industriali forti. Io quello che vedo, e quello che è già stato detto anche da altri, è che queste grandi risorse abbiano difficoltà nell'essere spese. Io credo che la lista dei desideri, ne abbiamo viste tante, abbiamo dei progetti sulla città che riguardano le nostre filiere produttive, il settore dell'aerospazio, dell'automotive, la grande trasformazione digitale, per esempio con l'intelligenza artificiale. Questi sono i progetti che già abbiamo, che noi dobbiamo realizzare. Il problema è che queste risorse che poi si innestano nel Next Generation U, cioè i driver che vuole, dove vogliono, che vengano investiti queste risorse, siamo in grado di spenderli. Questo è il grande problema. L'Italia ha questo grande problema che avrà in mano queste risorse, ma dovrà spendere entro il 2026. E storicamente non siamo stati capaci di farlo. Quindi io credo e auspico in un grande cambiamento del metodo, della pubblica amministrazione, della volontà veramente di poter scaricare a terra queste risorse, è un'occasione unica. Se non cogliamo questa occasione sarà veramente difficile recuperare quello che è il gap che abbiamo avuto in questi ultimi anni. Questo è chiaramente una cosa di sistema, nel senso che ognuno deve fare la propria parte. dal governo agli artisti, passando per le imprese e l'amministrazione. Quale può essere il ruolo delle imprese nel cercare di fare la propria parte in questo sforzo collettivo? Le imprese devono capire che oltre a questa grande pandemia che ha cambiato tantissimo il modo di lavorare, i modelli di business sono cambiati in tante cose. Anche dalla piccola attività dell'artigiano, dal commerciante che si trova a avere di fronte anche a servire il proprio cliente in modo diverso. Ma l'industria già da prima era in una grande trasformazione. Noi abbiamo in Italia il più importante piano di agevolazione sulla industria 4.0, per esempio. Questo spesso non si sa. Ma in Italia le agevolazioni ci sono, gli aiuti ci sono, gli sgravi fiscali ci sono. Ecco, le aziende devono prendere queste opportunità e investire nei loro processi. E lo dobbiamo continuare a fare, però capendo che anche alcune cose sono cambiate in un anno, cosa che sarebbe cambiato in moltissimi anni. C'è stata un'accelerazione fortissima in tantissime cose. Però nella manifattura questo processo era già avanzato e quindi le aziende devono cogliere questa opportunità. Dobbiamo fare in modo che queste leve, che vengono dai fondi europei, ma che vengono anche dai programmi che già ci sono stati. Ricordo il piano industria 4.0, che era una delle poche politiche industriali che noi avevamo, che va utilizzato. Quindi le aziende devono capire che c'è una trasformazione che devono cogliere. L'intelligenza artificiale che vedrà protagonista la città è un'altra grande onda che sta arrivando. Poi ne abbiamo quella della mobilità, per esempio. Abbiamo grandi antitrasformazioni che questa pandemia ha accelerato. Si dice, e speriamo che sia vero, che ogni crisi è un'opportunità. Esatto. Questa è una città che ha un DNA molto speciale perché ha una capacità creativa di guardare avanti straordinaria e non sempre riesce a tutelare le proprie scoperte o a vendere bene le proprie scoperte. Se guardiamo al Politecnico, ad esempio, molti studenti vengono a studiarsi in questo centro di eccellenza, che è il Poli, qui a Torino, e però vanno a lavorare fuori. Cosa si può fare per trattenere le intelligenze naturali, oltre che quelle artificiali, nella città di Torino, in modo che siano legna per il fuoco dello sviluppo locale? Allora, i 110-120 mila studenti sono un grande patrimonio che noi abbiamo, le competenze degli Atenei, del Politecnico, la stessa università. Cosa succede? Che manca però il collegamento col tessuto produttivo. Ecco lì che scatta la possibilità, attraverso questi investimenti che stiamo cercando di portare avanti, che sono dei centri di competenza, sulle nostre competenze che facciamo storicamente, che abbiamo storicamente, di poter creare occupazione. Occupazione vuol dire attrazione di investimenti, a partire dai grandi gruppi. Noi abbiamo fortunatamente ancora moltissime multinazionali sul territorio, malgrado la crisi, sono qui presenti, vogliono lavorare sul territorio, e su questo dobbiamo lavorare, creandogli le opportunità, e creando le opportunità per i giovani che studiano Torino, attraverso le cose che sappiamo fare. E quindi di lì i grandi investimenti sull'aerospazio, le grandi opportunità della space economy, come la trasformazione della mobilità, per esempio. Ma anche sul turismo, per esempio, abbiamo delle possibilità che ci dobbiamo giocare. Credo che ci siano anche dei cambiamenti in come verrà usufruito il prodotto turistico. Abbiamo un grande territorio, fantastico, che possiamo utilizzare. E credo che questa pandemia abbia un po' rimescolato le carte, e se riusciremo a avere le grandi infrastrutture che ci portino sempre comunque a una città di una certa dimensione e collegata bene, io credo che possiamo giocarci le nostre carte per il futuro. Chiaramente abbiamo preso un'altra botta importante quest'anno, nel 2020, che già arrivava dopo una crisi molto difficile. Quindi bisogna stare molto attenti, avere la visione molto chiara e cercare di fare gli investimenti giusti. Il PNRR è un'occasione unica e spero veramente che la sapremo cogliere. Però con i tempi che dobbiamo sapere... È veramente un'occasione unica. Uno degli ultimi prodotti della stampa è questo mensile economia Nord-Ovest, che vuole essere non solo il racconto del Nord-Ovest, ma una sorta di manifesto della necessità di fare squadra. Ecco, secondo lei come si può finalmente cercare di far lavorare insieme tre territori che hanno un DNA storico comune secolare, Liguria-Valle d'Aosta in Piemonte, in modo che continuano veramente come una macro-regione unica? Io ho cercato sempre di portare avanti questo concetto della macro-regione, si è tentato tante volte. Io credo che attraverso i collegamenti infrastrutturali questo scenario è cambiato. È cambiato tra Torino e Milano? Cambierà tra Torino e Lione, per esempio. Torino potrebbe essere al centro di questo... Più che un triangolo è al centro dell'Europa. Quindi questo modello europeo che dobbiamo cercare di saper cogliere e Torino non deve perdere la scala dimensionale, non deve scendere di campionato. Se riusciamo a rimanere in un campionato europeo, ce lo possiamo giocare con Genova e con Milano senza competizione. Milano ha Armani, Prada, noi abbiamo Stellantis, Leonardo e tale Salegna. Mi viene da dire, anche noi abbiamo i nostri Champions, le nostre cose. Genova ha un ruolo molto importante, i collegamenti per la parte, per esempio, ovviamente dei collegamenti internazionali verso i grandi mercati dell'Oriente. La Torino-Lione, la TAV, porterà grandi opportunità e potremo aprire veramente, abbattere questa barriera delle Alpi e cercare dei collegamenti. Quindi c'è una prospettiva, una partita che ci dobbiamo giocare insieme alle altre città. Ma lei diceva che si è provato tante volte, anche la TAV se ne parla da vent'anni. Ma di chi è la colpa? Allora, c'è una visione localistica che c'è stata e c'è ancora. Anche Torino, credo che nel suo modello di governance, sta ragionando su un modello che non esiste più. Spesso si dice facciamo squadra, lavoriamo. In realtà le logiche che stanno sotto agli attori del territorio non sono ancora quelle. E quindi credo che si è perso un attimo i riferimenti. La politica è stata rivoluzionata e noi abbiamo perso nella città questa guida. Quindi recuperare questa leadership attraverso un lavoro veramente insieme non è così semplice, perché c'è comunque una tradizione talmente forte e anche un ricordo. A volte si dice, ma noi facevamo così, ricordiamo le Olimpiadi. Questo modello non è più attuale. Quindi dobbiamo lavorare veramente, ma lavorare insieme. Noi lo stiamo facendo in alcune cose, in questi progetti che ho citato, c'è lo spirito di squadra. Io ho cercato di unire quando ero all'Unione Industriale. Cerchiamo di lavorare insieme, in certi casi si riesce a fare. Spesso vengono fuori ancora un po' di qualche sgomitata e qualche competizione che secondo me non è utile al territorio. E poi ovviamente, ripeto, la scala dimensionale, la capacità di Torino veramente di giocare un ruolo e quello dipende di coccolarsi gli asset che noi abbiamo. Quindi le grandi imprese, il patrimonio universitario, queste cose qui che vanno messe a sistema. L'ultima domanda a proposito di Torino. Si vota in autunno. Non le chiedo come andrà a finire? Oppure sì, mi piacerebbe sapere cosa pensa, come andrà a finire, ma che cosa si aspetta dal cambio dell'amministrazione comunale quest'autunno? Beh, io mi aspetto quella visione che spesso, univoca però, cioè condivisa. Abbiamo visto tanti piani, tante visioni separate. Ci vuole questa leadership perché comunque il ruolo importante lo gioca la politica. Le imprese, io ho visto che le imprese hanno voglia di partecipare, hanno voglia di collaborare, vogliono lavorare insieme al territorio, però la politica deve essere trainante. Quindi io spero veramente che ci sia una nuova amministrazione che possa veramente avere questa visione, che porti Torino veramente al centro dell'Europa, che li faccia superare questo impasse. E il modello di lavoro cambi. In alcuni casi ho visto che c'è la volontà, spesso si guarda troppo al passato. Quindi bisogna veramente rimescolare il paradigma e una forte leadership condivisa su alcuni obiettivi che possiamo definire insieme. Ne abbiamo già alcuni che sono importanti, basta perseguirli e realizzarli. Quindi guardare avanti, rimescolare il nostro DNA e cercare di trovare una nuova leadership. Io ringrazio Dario Gallina per essere stato qui con noi in Anche Punto e Torino, nello studio di Via Lugaro della Stampa. Vi do appuntamento ai prossimi programmi che realizzeremo. Arrivederci e a presto.